Le feste natalizie cominciano con Movene Natale. Il 30 novembre e il primo dicembre l'associazione, insieme per Giungatelle e il comune di Monte Corice, vi aspettano in piazza Antonio Domenico Franciulli con i mercatini artigianali, musica con Alessandra Maffia e Lanterina Folk, animazione, tombola vivente, prodotti enogastronomici, tra cui pizza fritta, polenta, broccoli e salsiccia, zeppole, dolci tradizionali. Una parte del ricavato sarà devoluta per il piccolo chicco. Il 30 novembre e il primo dicembre per tutta la giornata, Movene Natale a Giungatelle. È possibile prenotare lo stand attraverso la pagina Facebook Associazione Insieme per Giungatelle, info 333 27 27 938.